Ora facciamo un gioco, va bene? È molto divertente, ve l'assicuro. Sentite, ora state seduti a leggere il libro degli esercizi o giocate con me. Tanto comunque restate qui fino alla campanella. Questo gioco si chiama Il gioco della linea. Io vi farò una domanda. Se questa domanda ha attinenza con voi, fate un passo verso la linea e poi tornate indietro per quella successiva. Facile, no? Prima domanda. Quanti di voi hanno il nuovo album di Snoop Dogg? Il cavolo di nuovo. Va bene, indietro. Altra domanda. Quanti di voi hanno visto Boys in the Hood? Ok. Altra domanda. Quanti di voi abitano nelle case popolari? Quanti di voi conoscono una persona, un amico o un parente che è stato o è in carcere o in riformatorio? Quanti di voi hanno trascorso un periodo di tempo in carcere o in riformatorio? No. Il campo profughi, vale? Decidi tu. Quanti di voi sanno dove procurarsi la droga? Quanti di voi conoscono un membro di una gang? Quanti di voi fanno parte di una gang? Ok, questa era una domanda stupida, vero? Esatto I membri delle gang sono banditi dalla scuola Mi scuso per la domanda, mia colpa Ok, ora vi faccio una domanda un po' più seria